Un pervento molto stimolante, innanzitutto con riferimento all'utilizzazione degli strumenti informativi. Io ricordo che alcuni anni fa il prospetto informativo è un strumento estremamente complesso e articolato e di particolare difficile comprensione. Io scrissi che soltanto i ricercatori universitari normalmente andavano a leggere il prospetto informativo e difficilmente lo andavano a leggere i clienti. Il legislatore comunitario, che poi adesso ha consapevolezza a livello nazionale, ci dice che la strada è una strada invece di maggior semplificazione. Dall'altro lato il ruolo dell'associazione dei consumatori. Concordo che il ruolo deve essere importante, far valere i propri diritti, io li ho chiamati contropoteri, non in contraposizione, ma proprio come attori del mercato che possono far funzionare il mercato in modo efficiente. Perché costringono gli operatori economici a sviluppare al massimo la loro efficienza e quindi a far funzionare il mercato in modo adeguato. Ho lasciato per ultimo il soggetto da cui ci aspettiamo molto, perché è un soggetto nuovo. Ho dialogato con il presidente della Fondazione per l'educazione finanziaria, il professor Bertratti, che è stato un giovane collega dell'Università di Torino e mi diceva che le prospettive e i progetti sono interessanti. Quindi lascio la parola a Giovanna Borgio Romutti per darci l'indicazione. Grazie mille e un saluto anche da parte mia e grazie per questo invito e per questa stimolante posizione di ultimo che mi consente di recepire i moltissimi stimoli che ci sono stati in tutte le relazioni. Quindi evito i commenti su tutto ciò che è stato detto su cui sono assolutamente d'accordo. Ricordo solo bellissimamente chi siamo, perché siamo effettivamente giovani, ma non così tanto come sempre. La Fondazione per l'educazione finanziaria è stata costituita un anno fa più o meno dall'Associazione Bancaria Italiana, ereditando tutta l'esperienza che aveva sviluppato negli anni il Consorzio Particchiari per una parte relativa all'educazione finanziaria. Quindi attenzione, era solo una delle parti di attività, diciamo non quella prevalente per cui era nato Particchiari. Quindi un'esperienza nata nel lontano 2004, con tante forme di sperimentazioni di tutti i tipi, che le banche hanno voluto appunto costituire in forma di fondazione. Perché hanno fatto questo? Perché il Presidente Patuelli era da sempre convinto che l'educazione finanziaria fosse una tematica di estremi interessi per il Paese, era convinto che le banche dovessero avere un ruolo, l'hanno avuto e continueranno a darlo sempre più, voleva dare un po' di segnale a questo desiderio di continuare a impegnarsi in una maniera che cercasse di diventare sempre più sistematica, perché appunto uno dei grossi problemi è il fatto che ad oggi si sta lavorando con tantissimi programmi, energie, forze, io credo che dalla ricerca dovrebbe venire fuori forse anche un minimo di quadro economico, ma se noi facessimo il conto di quanti soldi sono stati spesi in tutti questi anni da tutti gli enti attivi, verrebbe fuori una cifra che ci farebbe credo svenire, ecco, che purtroppo non abbiamo usato bene, ma insomma questo è stato detto. Quindi la fondazione che cosa vuole essere? Non una fondazione delle banche, ma una fondazione costituita dalle banche per diventare aperta a tutti quelli che vorranno entrarci e tutti quelli per noi sono tutti gli enti, soprattutto privati, ma naturalmente anche pubblici, le istituzioni, le accademie, chiunque vorrà unirsi a questo sforzo che cercherà non di dare delle indicazioni su che cosa va fatto, ma proprio di cercare di mettere insieme nel modo più razionale, organico, sistematico e coordinato tutte le norme quantità di programmi di energie che già sono attivi in Italia. La nostra vocazione già come patichiera era quella di collaborazione assoluta con tutti gli enti, le associazioni pubbliche e private sul territorio, quindi noi siamo molto felici da quando siamo alla fondazione di aver ancora stretto questa possibilità di collaborare prima di tutto con le autorità di vigilanza Banca d'Italia e Consul, con cui fra l'altro abbiamo già fatto delle sperimentazioni soprattutto con Banca d'Italia di grande interesse proprio nell'andare per esempio a presentarci nella scuola, quindi dal mese di settembre abbiamo fatto degli incontri con gli insegnanti di avvio dei nostri programmi in cui per la prima volta gli insegnanti hanno avuto un quadro dei principali progetti di educazione finanziaria attivi nell'ambito di protocolli col Ministero che erano proprio quelli di Banca d'Italia, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate e della Fondazione. Il fatto stesso di averli presentati in un'unica mattina con una logica, una condivisione per gli insegnanti è stato un segnale fortissimo, non solo perché hanno cominciato a capire che questi strumenti in qualche modo dovrebbero forse trovare una organicità, non solo perché gli si aiuta forse ancora di più a distinguerli perché voi non ci crederete ma per loro è un po' difficile capire la differenza tra Banca d'Italia e una banca eppure c'è, però qui arrivo poi al mio secondo tema, per gli insegnanti non è facile cavare nel loro mondo dell'insegnamento questo argomento che è così chiaro. Quindi spiegato un po' che cos'è la fondazione e così allargato questo invito a chiunque vorrà unirsi a noi in questo tentativo appunto di fare un po' di sintesi tra tutto quello che c'è, passo a cogliere alcuni stimoli sicuramente interessantissimi partendo proprio da quelli che ha dato l'avvocato Cacciarelli in apertura. Quello che mi ha colpito di più è stato l'affermazione che l'educazione finanziaria è un diritto, poi giustamente il dottor D'Agostino dice anche un dovere. Allora è un diritto e non un obbligo. Il problema che io che ho una mia formazione professionale che viene dal mondo della comunicazione mi pongo e che è così un po' una palla che butto poi per il dibattito successivo è questo. Allora noi che da tanti anni ci occupiamo l'educazione finanziaria siamo dei fortissimi sostenitori dell'indispensabilità di questa forma di nuova cultura. Purtroppo noi stiamo parlando con un paese che ancora non ha minimamente colto l'importanza di questo tema nella loro vita. Secondo me questo è un problema di non poco conto, nel senso che prima vatti chiare oggi la fondazione peraltro affronta l'educazione finanziaria in un'ottica di cittadinanza consapevole, noi la chiamiamo cittadinanza economica perché così era stata definita anche dal mio, che ci colloca sul piano un po' diverso, su un posizionamento molto preciso. Per noi i temi di educazione finanziaria hanno a che fare con le competenze indispensabili per un cittadino, era stato ricordato anche prima. Questo che cosa significa? Che così come è successo per l'educazione alimentare, per l'educazione alla prevenzione della salute, per l'educazione alla sicurezza stradale, l'educazione a un uso consapevole del denaro, che è il punto da cui noi come fondazione parliamo, deve diventare qualche cosa di assolutamente intrinseco alla cultura di cittadinanza dei ragazzi, perché è più facile forse farlo increscere in loro che nei loro genitori. E qui poi vedremo le tante esperienze che abbiamo fatto con gli amici delle associazioni, dei consumatori con cui lavoriamo da tantissimi anni e quante sono le difficoltà di avvicinare agli adulti a questo argomento. Allora per noi questo è un tema di cittadinanza ed è un tema di una nuova cultura che noi dobbiamo far crescere sicuramente a partire dalla scuola. Però colgo poi lo stimolo del dottor Agostino, su cui sono d'accordissimo che è quello anche di un modello di vita che non può più essere uguale a quello di prima, io l'avevo chiamato stile di vita e di nuovo mi aggancio ai temi di cittadinanza. Facendo un esempio tra tanti temi che la fondazione propone per esempio nelle scuole e come vi dicevo la nostra scelta è stata quella di essere orizzontali, il che significa che noi parliamo di educazione finanziaria ai ragazzi nelle loro varie età toccando tantissimi argomenti senza mai approfondirli perché riteniamo che ci siano anche enti molto più qualificati di noi per farlo. Nel toccare questi argomenti a loro si parla appunto di uso consapevole del denaro prima di tutto però di capitale umano, quindi da lì si parte per spiegargli che il primo investimento che devono fare è quello su se stessi attraverso l'educazione nella scuola e tutte le altre competenze che acquisiscono in famiglia nella scuola e via. Poi si arriva a parlare di uso consapevole del denaro, quindi anche responsabilizzazione sul ruolo che anche i figli hanno in una famiglia. Voi sapete benissimo che molto spesso i genitori sono portati a fare acquisti che sono magari dettati dal desiderio di non far toccare i figli cose che magari non si potrebbero permettere. Allora anche far riflettere i figli su ciò che una famiglia può fare rispetto al budget che ha quella famiglia e forse un passettino avanti che aiuterà anche i genitori a così parlare di questo argomento che ancora poco è toccato in famiglia in una maniera più responsabile anche nei confronti dei figli. Si va poi a toccare i temi dell'assicurazione, si va a toccare i temi del risparmio, dei rischi, quello della previdenza di cui ancora ieri si parlava con Covid e me forse se ne comincia a parlare per fortuna sempre di più. Quindi noi tocchiamo tanti temi, alcuni noi li andiamo a proporne anche se sappiamo che sono magari argomenti un po' particolari, diciamo innovativi. Quest'anno con Expo abbiamo sviluppato un programma che per esempio affronta il tema dell'economia sostenibile o della sostenibilità di nuovo, noi l'abbiamo collegato all'alimentazione per un ovvio motivo appunto del tema di Expo, però ci chiamo di far riflettere i ragazzi e i bambini sul fatto che ogni volta che loro sprecano cibo stanno anche sprecando dei soldi oltre che delle risorse importanti e di nuovo che poi il discorso si allarga appunto agli stili di vita, alla ricerca di una sostenibilità maggiore che parta da una responsabilità nell'usare delle risorse economiche ma anche naturali del pianeta. Abbiamo sperimentato un format che ci è piaciuto tantissimo che porta i ragazzi a riflettere sulla finanza comportamentale dove li andiamo a rappresentare con un format molto particolare che sta a metà tra una lezione e uno spettacolo il fatto che ci sono delle scelte in cui le nostre azioni sono influenzate dal modo in cui ci viene posta la domanda che ci porta alla scelta. Sono delle riflessioni che appunto non aiutano a costruire competenze ma sicuramente, scusate, conoscenze, ma sicuramente sviluppano capacità critica, spirito di riflessione, spirito di osservazione, noi siamo sicuramente e scusate, sviluppano curiosità nei ragazzi, secondo noi sviluppando poi un processo che facilita ad andare ad occuparsi ad approfondire argomenti che sono vissuti come un po' pesanti, un po' difficili, magari un po' lontani dalla loro vita. Il terzo argomento su cui noi stiamo cercando di lavorare sempre più è quello che collega l'economia con la legalità e secondo noi questo è un altro passaggio importantissimo, di nuovo è stato fatto un richiamo al fatto che il denaro si guadagna, quindi il processo di produzione del denaro passa attraverso il processo del lavoro e il processo del lavoro nasce attraverso appunto un processo di costruzione del capitale umano che quindi richiede un lavoro che si fa nell'arco di una vita. Questo è un po' il nostro approccio. Mi è piaciuta moltissimo anche la definizione dell'Avvocato Cocciarelli che parlava di economia mentale, che mi sembra un bellissimo concetto. Noi lavoriamo un po' su questo stimolo, cioè cerchiamo di fare in modo che la nostra mente diventi più economica. Noi viviamo in un mondo che non solo ci costringerà da adulti a dover conoscere dei prodotti finanziari complessi, ma anche da piccoli comporta già delle azioni economiche. Io ho due figli relativamente piccoli, loro hanno accumulato un capitale perdendo dentini da latte, quindi banalmente se gli si dà una corretta informazione nel momento in cui loro cominciano ad accumulare denaro e magari si gioca con loro, aiutandoli a metterle a parte un po', metterle un altro po'. Sono tutte le delle, come dire, attitudini che si cominciano a costruire fin da piccoli. Noi un paio di anni fa abbiamo realizzato un esperimento interessante con l'Università Cattolica di Milano che ha dato vita a un piccolo volume di fiabe, a fiabe denaro, che sembrava un po' uno scherzo. In realtà è stato apprezzatissimo per esempio dal mondo dei genitori e degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, che ce ne hanno chieste moltissime copie, quindi abbiamo fatto poi le stampe successive. Questo libro partiva da una ricerca fatta dalla Facoltà di Sociologia che aveva fatto dei fuoco studi in scuole primarie milanesi andando a cercare di capire quali fiabe della tradizione classica, non abbiamo inventato nulla a panno, banalmente della città e della formica, veicolassero dei messaggi di uso consapevole del denaro o tematiche al fine. E sono andati anche a vedere se queste fiabe, così come erano raccontate, convincevano i bambini, cioè se loro poi ricavavano in effetti un messaggio positivo. È stato molto interessante perché banalmente i bambini non erano fatto d'accordo per esempio su come finiva la storia della cicala e della formica. Per loro era iniquo che questa formica egoista lasciasse morire di fame una cicala che si era un po' vaga ma insomma poteva essere salvata. E quindi hanno riscritto un finale che a loro modo univa l'utile e il dilettevole e creava un modello di lavoro congiunto che funzionava per cui queste due persone oggi mettevano in piedi un ristorante dove una curava solidaristico, una curava tutta l'aspetto di organizzazione e di efficienza e la cicala intratteneva e quindi questo posto aveva un grande successo. E questi erano bambini, se non ricordo male, tra la terza e la quarta elementare. Quindi loro hanno grossa capacità di elaborazione già di tematiche vicine all'uso consapevole del denaro e dell'economia, maneggiano i soldi, li vengono usati dai genitori. Quando andiamo alle scuole elementari, anche in terza, a parlare per esempio di come funziona una banca, perché è importante che loro sappiano anche meccanismi che poi magari da grandi non capiscono, tipo appunto perché il credito viene erogato in un certo modo, perché non si possono dare soldi a tutti, perché non si può pensare che i bancomat eroghino soldi che escono dai muri. È importante che loro sappiano che dietro c'è tutto un processo che passa da un sacco corrente, per cui hanno dei soldi e per il soggetto i genitori. Quindi ci sono tutti temi che secondo noi non vanno sottovalutati, i bambini piccoli stanno crescendo con una percezione del denaro molto diversa dalla nostra. Vi ricordo solo che con l'uso di credito Bancomat non esiste più il concetto di mi compri questo, non mi dispiace, non abbiamo più soldi nel portafoglio. I miei figli crescono pensano, idealmente, che i soldi siano infiniti tanto con queste carte, in qualche modo si paga sempre. Quindi vi butto lì tutti questi stimoli che sono forse più sul fronte sociologico, ma sicuramente sono degli aspetti interessantissimi da considerare quando andiamo comunque a mettere mano alla costruzione di una forma di nuova cultura che in Italia ancora non c'è. Allora io vi ho magari presentato di più l'aspetto che ha di fare con i piccoli con le scuole. Io dicevo, negli anni con 14 associazioni dei consumatori che si vivano a tavolo di pratica e ora sono un altro organo, tra l'altro, della fondazione, quindi sono dentro alla fondazione, ci siamo interrogati anche su come fare ad avvicinare gli adulti, ovviamente non attraverso le reti, diciamo, di distribuzione classica, in momenti in cui gli adulti stanno così affrontando il tema del denaro nelle banche o piuttosto che in tante altre istituzioni. Noi abbiamo cercato di entrarli in tutti i modi, è difficilissimo, tutti voi lo saprete perché gli adulti hanno molte cose da fare, reputano di non aver bisogno di sapere di più su questo tema, vanno colti nel momento in cui hanno un bisogno e quindi sentono l'esigenza di informarsi. Però il famoso paragone che noi facciamo con la scelta di un'auto, un telefono o un computer vale sempre, mentre siamo disposti a spedere ore confrontando telefonini, computer, macchine, nel momento in cui bisogna andare a fare un investimento che è molto più difficile e sicuramente noioso, caso strano, magari ci si affida di più a qualcun altro che si conosce, insomma c'è una scelta che veramente ha delle componenti nazionali. Io non vorrei rubarvi altro tempo, mi vedo in maniera un po' disordinata di aver buttato lì per tanti stimoli, però magari possono seguire al dibattito, quindi grazie. Grazie.